Mi chiamo Anna Maria Savigni e mi occupo dell'amministrazione. Quando i miei clienti bevono il nostro vino vorrei che provassero anche loro la soddisfazione che proviamo noi e la gioia di gustarsi questo vino in totale relax e pace. La cosa che mi piace di più del mio lavoro è quello di raggiungere ogni giorno con calma, fatica e tutto raggiungere piano piano i nostri obiettivi cioè quello di ottenere un vino che piaccia prima di tutto a noi perché siamo sicuri che piacendo a noi può piacere a tanti altri. L'etichetta nasce prima di tutto con un disegno di mia figlia che quando abbiamo acquistato l'azienda ha cominciato un po' a fare delle bozze di questo perché si chiama torcilacqua, una cosa che si attorciglia da questa cosa poi è venuto fuori un cuore e allora abbiamo deciso di utilizzarlo come logo della nostra azienda.